Non sei iscritto? Iscriviti. Non hai lasciato un mi piace? Lascia un mi piace. Ora. Benvenuti a tutti i buoni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video delle cubo del sabato. Oggi ragazzi siamo sempre in qui. Oh, ma ok. Ho trovato piccone e bastoncino di Jackie Chan. Il piccone, il mio piccone quello, come ti permetti? Non era il tuo, il mio. Sì, guarda che l'ho pagato io, eh. Guarda il mercante. Ho trovato degli haters, me li puoi uccidere con un piccone. Ah, anche così. Ci sta. Ce n'è rimasto... Ma ritornano, guarda. Sì, sì, ritornano. Che schifoso. Sì, ritornano gli haters. Ho trovato un ender, però andrei subito, lo sa. Oh, diamante. Yeah, diamante. C'è l'hai. Io non ce l'ho. Cosa non hai? Oh, certo. Nelopi è ossidiana, ma oggi va proprio bene. Va proprio alla grande. Alla grande. Io non ho trovato ancora nulla. Uh, la spadalezza. Men, ma la spadalezza... No, non si può sistemare. Ci hanno detto che non possiamo più cittare. No. Però, comunque, fa sempre parte del servo. E siccome lo faranno tutti, lo faremo anche noi. Basta, creeper. Esatto. Guarda cosa c'è nella nostra isola. Ci sono le anvil. Sì. Io, la spadalezza, tu hai trovato i diamanti. Cosa si fa? Io ho trovato anche un botto di cose cosuose. Boh, dammela. È il caso di combinare queste cose che abbiamo. Eh sì, però purtroppo non ho livelli. Ah, già. E beh, uccidi i mob. Ci sono così tanti. Dove sono? Boh, non lo so, c'erano... Ah, ma sono morti. C'è rimasto un mob. Mi ho buttati tutti giù. Però se li uccidi così non ti dà l'esperienza. Destra... No. Destracto? Quanta roba sto trovando, Taro? Io continuo a trovare mob. Ma sai cosa vuol dire un altro? Un altro mob. Guarda. Solo solo mob. Non ho trovato nulla in questa partita io. Solo solo mob. Solo mob. Troviamo. No, no, no. Non esplodere. Cosa è successo? È esploso quello con la cesta angelica. Che però mi ha dato lo stesso la spada angelica. La vuoi? Beh, in effetti mi servirebbe una spada. Però... Infatti mi manca tutto, quindi... Eh, io vorrei un po' di livelli. Aspetta. Aspetta, fammi uccidere sto pirla qua. Eh, sì. Infatti, bravo. Fai bene a uccidere o ti dà anche l'armatura. Dov'è? E dov'è? È che rincorre me. Ok, ho un livello, un livello. Passa la spada e le lezzina. Ehm... Sì, tieni. Non so se un livello ti basta. Perché io ho un piccone? Ne ho due. Boh, non lo so, io ne ho due adesso. Spada e lezzina. La spada di metano non si tocca. Tieni la spada angelica intanto. Aspetta. Va bene, dove è? È qua, te l'ho data lì. Il piccone ce l'hai? Io c'ho anche il destratto. Sì, non so nemmeno perché ma ce l'ho. Io ho tutto. Ti ho buttato anche un'altra cosa e ti butto anche un diamante. Non ci faccio nulla. E ti do anche l'armatura. Ma ce l'ho già l'armatura. Ti ho dato tutto, ti ho dato. Non faceva schifo quella roba. Non è vero. Sì, è venuta la merda, la faccio pure. Ma quello si sono usati il destratto su di loro. Aia. Ma magari l'è caduto quello dell'atiblock. Tecnica tana. Non credo se lo... Boh, non credo. Tu per caso hai una freccia? Sì, ne ho dieci. Ok, ma vuoi dare gentilmente un paio. Tieni. Vattela a prendere in mezzo agli haters. Gagazzi. No, non mi fai prendere danno che sennò devo uccidermi poi. Eh no, io devo uccidermi il mio tuo cuore in mezzo. No, 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 no. Ci sono i blu che sono forti. Ho trovato una spada angelica. Ok. Ok. Ah, è vero, con la spada angelica mi posso curare. Altro che... Eh sì. Che top. Ma sti qua non mi hanno visto serio? Ma... Sì da solo, eh, io sono nell'isola. Non so, ma sto capendo, sto cercando di capire se mi abbiano visto o meno. Ok, mi sono chiuso dentro, sciallo. Mi chiudo anche di qua e mi chiudo anche sotto. Ok, sono chiuso con l'ossidiana. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Come? No. Sei morto. Come ha fatto a uccidermi? Non hai armatura? No, mi ha beccato con la spada lezzina. Raga. Che è devastante, cioè, non è cosa. Questa spada lezzina è di merda. Che è proprio una... La spada lezzina è una merda. Per questo lo sai. Oh, c'è uno da noi, c'è uno da noi. Mi ha ucciso con la spada lezzina, man. No, lui usa la spada lezzina quella potenziata come noi, eh. E tutti usano quella, bomber. E' figa, ma io no. Io ho quella normale. Dove sei? Ma accanto a te. Perché è una prima mea d'oro? WTF? L'hai mangiata, c'hai effetti. C'ho gli effetti della moto. Vi devo fare resistance. Sì, sì, vedo, lo vedo. Vieni con me, se vuoi. BOOM! Occhio, che mi sa che c'è uno che è venuto a attaccare veramente noi, eh. Guarda. Sì, anch'io, eh. Ucciso e ucciso anche questo. Via, sali. Sto salendo con l'ossidiana, Tano. So che non si dovrebbe fare, però... Ok. La vita è la vita. Oh, sei da me, sei. Ciao, Tano. Ma poi io li sto uscirendo con la spada normale. Loro con quella lezzina non ci riescono. Come non ci riescono? Che so... Eh no, mi mancavano. Ok, mi hanno ucciso. E mi mancavano di continuo. Dai, ce la puoi fare? BOOM! Bella. Andati, andati, andati. C'è ancora gli effetti della mela d'oro, eh. Non vorrei dire, però... Ho anche... No, quelli livelli non ce n'è. Io... Andrei direttamente dagli altri. Dagli altri intendi Virdi o intendi... Vabbè, sono rimasti solo loro. Non è che ci sia molto, eh. Come sono rimasti solo loro? Eh sì, i russi non ci sono. Eh, BOOM! Non so che dirti, non ci sono. Cosa ho appena fatto? Che cosa ho appena fatto? Ma dai, io che volevo usare lo shatrony blazer se non funziona. Ma mi sai che la spada lezzina non la stavano nessuno tranne noi, eh? Non vorrei dire. No, non i veri, i blu la stavano utilizzando, ne sono sicuro. Sei sicuro? Sì, sicurissimo. Ogni volta rinasceva con una spada che mi sciottava. Non mi piace che la tolgo, sta spada, va? Ne metto un'altra, metto un diamante normale, su. Non è neanche giusto far così, su. Ma lo fanno tutti? Eh, lo fanno tutti, però non è così giusto, mamma mia. Eh, non è che dici, mamma mia, eh. Bordello. Ma secondo me è abbastanza onesta. Non lo so se è così tanto onesta, eh. Guarda, io non ho più armatura perché quello di prima me l'ha levata tutta con due colpi, dai. Allora non mi stanno guardando. Sto arrivando. Probabilmente manco hai armatura, Marci. Allora, facciamo così. Mettiamo al secondo posto questo e facciamo così. Marci, sto arrivando. Facciamo così e facciamo così. Facciamo così. Mi sono preso il loro diamante. Mi sto chiudendo dentro. Vabbè, non è male come cosa. Cavolo, è subito arrivato l'altro. No! La spada le zino! Me l'ha usata davvero, me l'ha usata. Me l'ha usata davvero, Bomber. Me l'ha usata davvero. Era fatta sta partita. Dai, sto andando. È così, man. È così, è così. Però, ce l'hai del legno? Ce l'ho io. Ce l'ho quattro giusti per fare. Il legno no. Se fai una crafting o tantissimi diamanti? Ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho anche due cosi di diamanti, scialla. Mi faccio. Eh, ma tanto con la spadalesina ci aprono. Ci aprono proprio, capisci? Eh, sì, però... No, non c'è, però hai ragione, cioè... Mi sa che tocca usarlo anche a noi. Raga, 12.500 di danno. Ho detto... Credo di aver detto tutto. Credo di aver detto tutto. Il problema è se cos'è, armature... Cioè, non l'armatura, è il... Uh, una minuta qua. No, no, sono caduto, sono caduto, Tano. Mi dispiace. Menni, io non ho... Continuo a cadere, ho fisi... Non ho fisi tanti. Da voi, non ho più, ma ci. Vorrei delle ender per gentilmente, grazie. È quello che manca pure a me. Davvero? No, siamo nella merda. Cosa, davvero? Sì. Siamo nella merda. Però tieni, aspetta un attimo. Raga, sono raffreddato. Voglio soffermi il naso in diretto, ok? Ok, ora ve lo dico, lo faccio. Allora, guarda, eh. Vira l'osso di un minuto qui. Ok, basta. Basta, basta. Cerchiamo un po' di ender perle. Sì, sì. Per quello che sto facendo. Io non sto trovando niente. Ma nemmeno io. Però ci sto provando. Ma che cazzo? Ma io pure che venga... Io uso il destructo contro. Dai, ender perle. Ma nel nostro nucleo o addosso a loro? Eh? Addosso a loro o nel nostro nucleo? Non lo so, potrei usarlo... Io non ho ben capito la cosa. Perché ho due mele OP adesso? Te l'ho dato io. Due? Sì, perché? Ah. Non potevo. Il fatto è che non sto trovando le cose che mi interessano realmente. Però anche un di Charlie blew up. Che ridi io? Eh? Alezzo, che ridi? Dai, basta, TNT. Vogliamo delle ender perle, vogliamo. No, gli haters. Dai che esplodono. Non è esplosa la TNT che dove esplode. Esplode sempre sta TNT. Ma se non esplode, guarda che è meglio. Vuol dire che la puoi utilizzare quando ti pare. Allora, io mangio una melo OP e vado. Dai, vieni, io ho due ender perle. Teoricamente è che tu dovresti averne due. Eh, sì, sì, un pochettino ne ho. Eh, fai ce ne hai. Ne ho una, giusta giusta presa del distratto. Andiamo? Sei pronto? Sì, sì, andiamo, andiamo. Ci sono io, sono pronto. Andiamo, sono già da loro io. Aspetta che pensi... Eh, sì, l'ho failata. Aspetta un attimo, eh. Dai, sei un pirla. È stata una svista, diciamo uno scatto di mouse mentre l'ho tirata. Ok, ce li sono, ce li sono. Tu da che colore sei ora? Sono dei verdi, sono. Ah, diceva così di cattivello. Sì, sì, sono del distratto contro. Sto arrivando, sto arrivando. Aspetta che ci sono. L'ho usato. E ora mi butto su di... Eh, ma non ho le ender per andare da loro. Top. Cosa faccio, Tano? Aiuto, devo aspettare i secondi per le... Ah, c'ho il mover. Uso il mover. Ma cosa l'ho visto? Sì, usa il mover, usa il mover. Ti abbanzato a top. Ci stai sfuggendo, Tano! Veloce, veloce, veloce. Tano, non posso fare niente. Ci sono anch'io. Tano, devi andare da loro, ci ammazzano. Come ci ammazzano? Non è vero, ma... Ci ammazzano. Spacchiamo tutto, spacchiamo tutto. Ammazzano. Uno, due... Sì! L'altro! Bella. Bella. Mamma mia! È andata così, raga. Il sabato finisce così. Mamma mia! Emozionante. Spero che il video vi sia piaciuto. E vi lascia un piaccio e un commento. E iscrivvi al canale, se ancora non l'avete fatto. Da Marcia è tutto. Bella. Ciao! 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 Ciao!